Diciamo che è una grandissima soddisfazione personale, soprattutto perché giocare contro squadre di alto livello come l'Inter, segnare e portare a casa questa vittoria è sempre importante per noi. È capitato durante gli allievi nazionali finale Scudetto, dove abbiamo portato a casa lo Scudetto e come dicevo prima è sempre una gioia immensa segnare contro l'Inter. Diciamo che io sono cresciuto qui, ho sempre giocato in questo campo, mi sono allenato in questo campo, perciò segnare qua il mio paese è sempre un qualcosa di speciale.